I corsi e ricorsi della storia ci insegnano che le mafie da sempre sfruttano eventi drammatici e crisi per incrementare il proprio giro di affari. L'attuale emergenza economico-sanitaria, innescata dall'epidemia da Covid-19, rappresenta quindi per le mafie un'occasione. Secondo l'Istat, già nel giugno 2020 il 38% delle aziende italiane segnalava rischi di sostenibilità della propria attività, mentre il 51,5% prevedeva di avere problemi di liquidità entro la fine dell'anno. Le uniche, tra virgolette, aziende a non aver risentito minimamente della crisi, come rivelano i dati forniti dal Ministero dell'Interno, sono proprio le mafie. Anzi, tra marzo e luglio 2020 i reati ascrivibili a organizzazioni criminali sono sensibilmente aumentati rispetto allo stesso periodo del 2019, toccando un picco del più 17% per quanto riguarda il riciclaggio e il reimpiego dei capitali. È la razza che ha spinto il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, da sempre in prima linea contro la malavita organizzata, a scrivere un nuovo libro insieme con il giornalista Antonio Nicaso e a presentarlo oggi a Chieti all'auditorium del Rettorato. Il titolo «Ossigeno illegale» dice praticamente tutto. Dottor Gratteri, io sono rimasto molto incuriosito dal titolo «Ossigeno illegale». Perché? Perché noi abbiamo pensato questo libro prima che ci fosse il lockdown, prima che ci fosse la chiusura a causa Covid. Abbiamo incominciato a ragionare, abbiamo incominciato a pensare con il professor Nicaso quali sarebbero state le conseguenze sul piano economico e come le mafie avrebbero approfittato di questa crisi economica. Perché pare un controsenso, ma le mafie approfittano maggiormente quando c'è bisogno, quando c'è crisi economica, quando l'economia è in crisi le mafie ne approfittano, perché giocano con un altro mazzo di carte e quindi riescono a comprare a prezzi da hotelette, alberghi, ristoranti e pizzerie. Cosa dirà a questa straordinaria parte dei ragazzi? Ma non lo so cosa dirò. Parlerò di mafia, parlerò di economia, parlerò del loro futuro, darò dei consigli su cosa fare da grande, come non farsi usare dagli adulti.